Nei giorni scorsi un dettaglio in più della splendida cattedrale Nissen è stato messo in evidenza. Il 13 novembre, entrando e percorrendo le navate laterali, era possibile notare la presenza di 12 cannelli accese, in corrispondenza delle 12 croci che si trovano sulle pareti. Un modo per celebrare la solennità della dedicazione della cattedrale, la consacrazione della stessa da parte del Vescovo di Agrigento Lorenzo Giovanni nel 1733. Infatti viene ricordata da una lapide incastonata nella terza colonna sulla destra, nella navata centrale. Nella stessa si fa riferimento anche ad altre date di rilievo per la chiesa Santa Maria la Nova, chiamata così proprio per distinguere la stessa da Santa Maria la Vetere o degli Angeli, la chiesa costruita a ridosso del castello di Pietra Rossa. Si tratta di date che sanciscono le tappe cruciali della costruzione e completamento della cattedrale Nissena, come la posa della prima pietra, fino ad arrivare alla consacrazione avvenuta dopo la realizzazione delle decorazioni interne, quali ad esempio gli affreschi del Borremans. Altri eventi e momenti importanti per la cattedrale Nissena vengono riportati invece in un'altra lapide, posta vicino alla prima. Il nostro Vescovo che ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica proprio venerdì, giorno 13 novembre, qui in cattedrale, parlando della bellezza di questo Tempio, della bellezza della nostra chiesa, ha sottolineato la data del 1622, quella cioè dire del completamento dell'opera iniziale e ha affidato a noi della cattedrale un impegno di preparare la celebrazione dei 400 anni, 1622-2022, 400 anni della presenza di questa chiesa cattedrale. Che cos'è la dedicazione allora della cattedrale? È la memoria annuale, liturgicamente solenne, del battesimo, diciamo, della crismazione di questo sacro Tempio dedicato, dedicazione, consacrato a Dio per sempre. La chiesa cattedrale nostra, dunque, ogni anno celebra anche attraverso il segno visibile della accensione delle candele, ma soprattutto con la celebrazione eucaristica, celebra questa data che è quella del compleanno della nostra chiesa cattedrale. Quest'anno il Vescovo aveva pensato di rendere più solenne questa celebrazione del 2020, invitando un figlio della nostra diocesi, un presbitero, recentemente eletto e consacrato arcivesco di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto di Mussomeli, che è stato consacrato Vescovo proprio il 24 ottobre a Siracusa, nel Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime. Nel giorno del compleanno della cattedrale, il Vescovo della diocesi nissena ha presieduto il solenne pontificale, celebrazione svoltasi, data la situazione sanitaria, nel rispetto delle misure di sicurezza. Non è stata possibile, però, la presenza di Monsignor Lomanto in città. Vorremmo che questa chiesa cattedrale fosse amata sempre di più dai nisseni per quello che è e per quello che rappresenta, soprattutto come segno di unità della nostra chiesa attorno al nostro pastore, il nostro Vescovo Monsignor Mario Russotto.